E l'agricoltura a tenere banco nella giornata barese dei quattro candidati alla presidenza della regione Puglia. Col Diretti infatti ha chiesto un incontro ai quattro scaglionato in orari differenti per far sì che non si incontrassero mai per presentare il documento di proposta per le elezioni. I punti scritti dall'associazione di categoria comprendono interventi per le emergenze, quindi recuperare i fondi FAS, interventi strutturali e provvedimenti legislativi, tra cui la disciplina dell'agriturismo, la semplificazione degli adempimenti amministrativi e la sofisticazione. Prima a presentarsi all'incontro il candidato per il centro-sinistra, Ninchivendola, assieme all'assessore al ramo, Dario Stefano. Col Diretti durante l'incontro ha riconosciuto alla regione gli interventi attuati finora. Il governatore, dal canto suo, ha chiarito ciò da cui occorre ripartire, e cioè le leggi sui consorsi di bonifica, gli agriturismo e la zootecnia, provvedimenti che, ha detto, non è stato possibile attuare per il centro-destra. E i progetti che stavano a cuore della Col Diretti, come la legge nuova sulla zootecnia o la legge nuova sull'agriturismo, avremmo potuto portarli a termine già in questa consigliatura, se la destra, a causa del regolamento che vige nella regione Puglia, avesse condiviso questa necessità. Purtroppo, quando prevale la logica dell'ostruzionismo, la logica del boicottaggio e dell'impedimento all'azione di governo, si deve tardare per aspettare risultati importanti. A rispondere immediatamente dopo è stato il candidato del centro-destra Rocco Palese, che attribuisce al disaccordo tra Rifondazione Comunista e Partito Democratico il motivo per cui i consorsi di bonifica non sono stati approvati dal Consiglio e poi ha aggiunto. Riforma dei consorsi di bonifica, una latitanza totale e una disattenzione totale da parte dell'aggiunta regionale uscente che deve essere assolutamente fatta. L'emergenza per gli agricoltori è quella di mandare via subito la sinistra e vendola, perché c'era lo stato di crisi e non sono stati in grado neanche di inviare la documentazione esatta così come doveva essere inviata e richiesta dall'Europa e quindi l'emergenza sono loro.